La professoressa Valentina Bambini Grazie Signor Ministro, autorità, magnifiche rettrici, magnifici rettori, insigni colleghe e colleghi, cari allieve, cari allievi, gentili ospiti e per me è un grandissimo onore essere qui oggi per tenere la prima lezione dell'anno e cercherò di farlo seguendo la vocazione della scuola IUS che è quella di portare nella didattica le frontiere della ricerca nel mio caso ricerca sulla metafora allora forse qualcuno di voi dato il tema pensa di stare per sentire una lezione di italiano come quelle del liceo dove si leggeva una poesia e si commentavano le metafore non è questa la mia intenzione io anzi cercherò di darvi della metafora e dello studio del linguaggio in generale una prospettiva diversa, una prospettiva cognitiva, neurobiologica che parte sì dalla bellezza, dalla creatività, dall'arte del linguaggio ma le affronta con metodi scientifici cercherò altresì di farvi vedere come queste conoscenze possano essere trasferite dall'università alla società per migliorare la vita delle persone e in particolare la comunicazione che è al centro dell'esperienza umana per iniziare vorrei invitarvi a riflettere su quante parole conosciamo quando pongo questa domanda all'inizio dei miei corsi agli studenti e alle studentesse rimangono un po' sorpresi, poi ci pensano e propongono qualche numero tipicamente 10.000 si sbagliano gli studi condotti nell'ambito delle ricerche sull'acquisizione del linguaggio ci dicono che mediamente il vocabolario di un individuo adulto al termine della scuola è tra le 50.000 e le 100.000 parole qui si arriva in un percorso in cui nell'età prescolare il bambino apprende circa 10 parole al giorno e poi ogni anno nell'istruzione aggiunge 3.000 nuove parole vorrei ora invitarvi a riflettere su un'altra domanda quanti messaggi possiamo comunicare? siamo vincolati da questo numero di 50-100.000 parole? allora gli approcci formali allo studio delle lingue umane hanno evidenziato che i parlanti sono in grado a partire da un vocabolario finito di generare infinite frasi ancorché vincolate da specifiche regole grammaticali sintattiche ma non c'è solo questo aspetto combinatorio matematico consideriamo ad esempio la parola perla e guardiamo come viene usata consultando un corpus della lingua italiana troviamo ad esempio orecchino di perla poi troviamo tinta bianco perla e qui il significato appare aderente a quello del vocabolario ma poi troviamo la perla delle dolomiti una nuova perla tecnologica per finire con cielo di perla che ricorre in una bellissima poesia di Pascoli la via ferrata ecco in questi ultimi tre esempi la parola perla vuol dire sempre qualcosa di diverso ponendoci davanti agli occhi come i parlanti usino le parole in modo flessibile arrivando a creare nuovi significati potenzialmente infiniti anche questi gli ultimi tre esempi della lista sono metafore e la metafora è il più grande generatore creatore di nuovi significati ma come fa la metafora a creare nuovi significati? tecnicamente una metafora altro non è che una parola usata al posto di un'altra e questo ce l'aveva insegnato già Aristotele nella poetica la linguistica contemporanea ha chiarito che in sintesi una metafora opera per inibizione e promozione di proprietà quando usiamo perla metaforicamente quello che facciamo è sopprimere alcune caratteristiche definitorie del concetto ad esempio essere contenute in un guscio o essere tonda e promuoverne altre ad esempio il colore cangiante creando un senso nuovo ma la specificità della metafora è che il significato che noi creiamo non è univoco non è preciso ma è aperto evocativo genera multiple immagini prendete il cielo di perla pascoliano che cosa vuol dire esattamente? è un cielo alla Friedrich è un cielo alla Van Gogh è un cielo alla Turner qui sta il bello e l'arte della metafora per via di questa bellezza certamente la metafora è molto frequente nella poesia ma la metafora non è solo ornato è anche uno strumento conoscitivo perché per via degli effetti che genera riesce a farci comprendere anche concetti complessi e ineffabili per questo è molto frequente anche al di fuori della poesia nella comunicazione quotidiana a fini didattici e soprattutto persuasivi si stima che il 18% delle parole nei testi accademici sia usato in senso non letterale e la percentuale è simile per i giornali qui ho appiccicato due esempi banali dai giornali di questi giorni non so il cantante Mario Biondi che definisce i figli ossigeno per la sua anima oppure gli uomini d'oro per riferirsi ai boss più influenti della cupola mafiosa questa altra metafora la metafora insomma è al centro della nostra vita comunicativa e di questa abilità linguistica così pregnante noi possiamo provare a dare una descrizione non solo filologica e letteraria ma anche neurobiologica indagando i suoi correlati neurali il suo sviluppo, il suo decadimento seguendo la grande svolta che si è avuta negli studi del linguaggio da Noam Chomsky in poi quando si è imposta l'idea che il linguaggio è una facoltà biologicamente determinata esclusiva degli esseri umani le scimmie anche qualora riescono a prendere un limitato vocabolario non sanno fare frasi né tantomeno metafore dando luogo a filoni di ricerca come quello della neurolinguistica questo è l'approccio allo studio del linguaggio che il professore Andrea Moro ha portato alla scuola IUS di Favia e che noi oggi proseguiamo in varie direzioni in questa prospettiva la prima cosa che possiamo fare è studiare l'hardware che ci permette di comprendere le espressioni metaforiche ormai da alcuni decenni la linguistica dialoga con le neuroscienze cognitive nell'implementazione di esperimenti volti ad individuare i meccanismi cerebrali che sottendono le abilità linguistiche una tecnica di particolare interesse è quella che si basa sulla registrazione dell'elettroencefalogramma ai partecipanti applichiamo una cuffia dove sono posizionati alcuni elettrodi che registrano l'attività cerebrale a livello dello scalpo mentre vengono elaborate espressioni linguistiche e questa registrazione avviene millisecondo per millisecondo fornendoci una fotografia dettagliatissima nel tempo dei processi neurali vorrei darvi un'illustrazione concreta di cosa registriamo e di cosa osserviamo nei nostri esperimenti a partire dal segnale cerebrale che viene registrato in maniera continua noi estraiamo modulazioni di questo segnale in termini di variazioni in ampiezza di alcuni microvolt che sono specifiche per la metafora il primo passaggio è fare questo per una condizione di base nel nostro caso una frase letterale ad esempio quel pesce uno squalo e poi facciamo la medesima cosa per le frasi metaforiche ad esempio quell'avvocato uno squalo non me ne vogliano gli avvocati in sala e confrontando le due risposte notiamo che ci sono due fasi in cui l'espressione metaforica richiede un costo di elaborazione maggiore rispetto a quella letterale una è intorno ai 400 millisecondi quando recuperiamo la parola e il concetto l'altra è intorno ai 600 millisecondi quando deriviamo il nuovo significato questa tecnica ci dice dunque che comprendere una metafora è un processo costoso per il nostro cervello implica un maggiore reclutamento di risorse neurali ma se ci pensiamo 600 millisecondi sono un tempo brevissimo e vorrei farvelo vedere a velocità reale quindi la metafora è costosa per il nostro cervello ma ci mettiamo solo un battito di ciglia un'altra via per studiare il sostrato neurocognitivo della metafora è quella di indagarne lo sviluppo nel bambino e per introdurre questo tema vedete l'immagine di mia figlia che legge l'ultimo libro di Andrea Moro e Noam Chomsky per imparare fin da piccola i segreti delle parole si è visto che il tanto sofisticato quanto efficiente meccanismo di comprensione delle metafore descritto prima è in realtà molto fragile e matura nel bambino più lentamente rispetto ad altre abilità linguistiche nella media infanzia grossomodo il periodo delle scuole elementari un bambino possiede un vocabolario già abbastanza ampio lo abbiamo visto prima una grammatica che si approccia a quella della lingua adulta ma le metafore continuano a rappresentare uno scoglio uno studio classico degli anni 70 ha mostrato che in un compito di spiegazione di metafore somministrato a bambini di 6 anni solo il 5% delle risposte è corretto prevalgono invece risposte di altro tipo addirittura magiche per esempio per la metafora la guardia del castello era una roccia il bambino potrebbe rispondere il re aveva trasformato la guardia in una roccia poi via via la percentuale di risposte corrette aumenta fino ad arrivare ai 14 anni quando diventa prevalente negli ultimi anni in collaborazione con il laboratorio di ricerca intervento sullo sviluppo sociocognitivo dell'università di Pavia abbiamo cercato di capire quali fattori guidino lo sviluppo della comprensione di metafore nella media infanzia abbiamo sviluppato diverse prove di valutazione e quello che abbiamo osservato è che alcune metafore vengono capite prima di altre le metafore fisiche ad esempio certe ballerine sono farfalle quelle basate su similarità percettive vengono capite prima di metafore psicologiche come la nonna e una colonna e perché questo? perché uno un aspetto fondamentale dello sviluppo della capacità di comprendere metafore che va di pari passo con lo sviluppo delle abilità sociocognitive del bambino in particolare la capacità di comprendere stati mentali, emozioni, intenzioni, credenze altrui una volta che abbiamo compreso questi aspetti che cosa possiamo fare? beh innanzitutto possiamo informare gli operatori del settore pensate quanta didattica per bambini fa uso di espressioni metaforiche senza tenere conto delle effettive traiettorie di sviluppo di questa abilità poi possiamo cercare di potenziare la capacità di comprendere metafore approfittando della plasticità del cervello dei bambini lo abbiamo fatto in un lavoro recente in cui abbiamo creato un programma di potenziamento delle abilità metaforiche che si chiama Metacom presentiamo al bambino delle storie che contengono delle metafore ad esempio questo maglione è un forno e guidiamo il bambino nel ragionamento su quali caratteristiche del forno siano rilevanti nel contesto della storia allora abbiamo somministrato il Metacom a un campione di bambini di quarto elementare mentre un altro gruppo ha ricevuto un trattamento di controllo abbiamo misurato le abilità linguistiche dei bambini prima e dopo l'intervento e abbiamo visto che nel gruppo trattato con il Metacom c'era un miglioramento nella compressione delle metafore vedete nell'immagine in alto che il gruppo di controllo in giallo è uguale al pre e al post mentre il gruppo Metacom in viola migliora ma non solo, il gruppo Metacom migliorava anche nella comprensione del testo questa è l'immagine in basso a indicare quello che tecnicamente si chiama un effetto transfer quindi migliorare la capacità dei bambini di capire le metafore li aiuta anche a comprendere meglio i testi ad analizzarli criticamente un'abilità che poi sarà fondamentale nella vita adulta abbiamo visto la fragilità potenziabile della competenza metaforica nel bambino vorrei ora portarvi a considerare un'altra fragilità della nostra capacità metaforica quella che si manifesta nella patologia e in particolare nel caso della schizofrenia la schizofrenia è una malattia mentale che colpisce tra lo 0,5 e l'1% della popolazione mondiale caratterizzandosi per la compromissione delle funzioni cognitive memoria, attenzione, pianificazione insieme ad una serie di sintomi come deliri e allucinazioni nella schizofrenia il pensiero è fortemente alterato e ciò si manifesta nel linguaggio mostrando dunque lo strettissimo legame tra come pensiamo e come parliamo per dirla con le parole di Eugen Bleuler che per primo descrisse questa malattia chiamandola con l'attuale nome di schizofrenia in questo testo del 1911 che vedete sulla diapositiva nei nostri malati le parole bizzarre sono gusci che nascondono un contenuto diverso da prima ecco io vorrei raccontarvi il caso di una donna che chiameremo con il nome di fantasia di Anna Rossi di 55 anni affetta da schizofrenia in cura presso l'ospedale San Raffaele di Milano con cui da tempo collaboriamo per lo studio del linguaggio patologico è una donna con istruzione superiore di buona famiglia che aveva iniziato l'università prima dell'esordio della malattia Anna Rossi ha un profilo linguistico fluente parla, chiacchiera volentieri ma c'è qualcosa che non funziona nella comunicazione le abbiamo chiesto di spiegare il significato di alcune metafore in particolare di alcuni proverbi che sono delle metafore un po' speciali perché veicolano anche un contenuto morale quando le abbiamo chiesto di spiegare cosa significa chi ha pane non ha denti ci ha risposto così è che il pane può essere anche pur morbido che sia è sempre una cosa da masticare cioè è sempre duro e quando le abbiamo chiesto di spiegarci piove sempre sul bagnato ci ha risposto è piove sempre sul bagnato nel senso che cioè se hai innaffiato le piante poi piove anche un po' troppo per la pianta naturalmente questo aspetto non è isolato ma si accompagna problemi a comprendere battute ironie un discorso che spesso deraglia e la metafora è il vertice di queste difficoltà nell'uso del linguaggio come linguisti che cosa possiamo fare? beh possiamo aiutare i clinici a descrivere meglio questi aspetti e in quest'ottica abbiamo sviluppato strumenti che possono essere usati nella valutazione clinica per misurare le abilità linguistiche utilizzando questi strumenti abbiamo riscontrato che ben il 77% dei pazienti ha difficoltà a spiegare il significato delle espressioni figurate la cella in arancione è chiaro a destra nel grafico che vedete abbiamo anche visto che la difficoltà a comprendere le espressioni figurate è fortemente legata a uno dei sintomi psicopatologici della schizofrenia noto come concretismo cioè la tendenza a rimanere ancorati agli aspetti fisici dello stimolo e a strarre difficoltà ad astrarre significati generali anche in questo caso non abbiamo voluto fermarci alla valutazione ma abbiamo cercato di utilizzare le nostre conoscenze sul funzionamento del linguaggio per impostare la riabilitazione abbiamo sviluppato un programma di intervento il primo nel suo genere che si chiama Pragmacom che abbiamo somministrato a un campione di individui con schizofrenia mentre un altro gruppo riceveva un trattamento di controllo nel Pragmacom un po' come nell'intervento per i bambini insegnavamo a riconoscere e comprendere le espressioni figurate naturalmente gli esercizi erano pensati per adulti in questo caso abbiamo utilizzato molti materiali ecologici come articoli di giornale da cui partivamo per insegnare a riconoscere e andare oltre significato letterale un esempio è questo che vedete nella diapositiva su Valentino Rossi che vince il nono mondiale indossa una maglietta con scritto gallina vecchia fa buon brodo ebbene dopo il trattamento abbiamo riscontrato nel gruppo allenato con il Pragmacom rappresentato in blu nel grafico un miglioramento maggiore rispetto al gruppo di controllo in viola nell'abilità di comprendere metafore è l'immagine a sinistra e anche nelle abilità comunicative in generale è l'immagine al centro nel controllo a tre mesi abbiamo riscontrato che questi miglioramenti si mantenevano e poi aspetto molto importante abbiamo visto abbiamo riscontrato un miglioramento anche nel funzionamento sociale dei pazienti misurato come capacità di svolgere attività della vita quotidiana e intrattenere relazioni con gli altri e consideriamo questo risultato di grande importanza dal momento che il fine ultimo della riabilitazione è migliorare la qualità di vita e il funzionamento e noi possiamo contribuire con un programma mirato sul linguaggio in particolare sulle metafore vorrei darvi un'idea di dove sta andando la nostra ricerca abbiamo parlato di neurocronometria di sviluppo di decadimento queste tre parole in inglese formano l'acronimo del progetto IRC Promenade che abbiamo inaugurato proprio il primo gennaio nel progetto cercheremo di capire ancora meglio il sostrato neurobiologico e cognitivo della metafora nell'arco di vita focalizzandoci su una proprietà della metafora che già Aristotele aveva individuato il fatto che ci mette le cose sotto gli occhi ma su cui sappiamo molto poco non sappiamo quale sia l'interazione tra metafora immagini mentali si tratta di ricerca di base che è ciò da cui poi vengono le idee per la ricerca più applicata che considero di grande importanza infatti abbiamo anche altri progetti che intercettano le metafore nella comunicazione e nella società uno di questi riguarda le metafore sul cambiamento climatico che sono molto frequenti spesso in formato multimodale che combina testo e immagini come questo esempio per tornare alla perla la perla di plastica che vedete nella diapositiva le studieremo negli adulti e nei bambini per capirne l'efficacia e capire se possono contribuire a promuovere comportamenti sostenibili in linea dunque con una delle direttrici di ricerca principali della scuola IUS un altro progetto appena iniziato riguarda le metafore della letteratura italiana di 8-900 di cui vogliamo dare una descrizione cognitiva psicolinguistica renderla disponibile in un corpus che contribuisca alla valorizzazione del patrimonio culturale del nostro paese in una chiave nuova infine abbiamo due progetti che proseguono il filone dei programmi di potenziamento delle abilità comunicative tra cui quelle metaforiche uno dei due progetti si focalizza sulla patologia ed è finanziato dal Ministero della Salute l'altro si focalizza sull'anziano ed è finanziato dalla Fondazione Velux e siamo partner del Laboratorio di Psicologia dell'Invecchiamento dell'Università di Pavia spero di essere riuscita a illustrarvi non solo la pervasività della metafora nella nostra vita quotidiana ma anche il confine sfumato tra arte e scienza tra discipline umanistiche e discipline scientifiche vorrei concludere citando Francesco Sabatini presidente emerito dell'Accademia della Crusca che in un suo recente volume ha scritto che il professore di italiano è professore di cervello buon anno accademico a tutti grazie iux il futuro che vorrei grazie 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 grazie